se volete un buon lavoro visual affidatevi alle tre mignò visual di precisione grazie a tutti e noi la notte lavoriamo e poi facciamo così per divertire siamo una bella squadra affiatata, divertente e noi la notte lavoriamo e poi facciamo così per divertire ciao mi chiamo John caro Nicola Zamparini, se tu stanotte lo liberi con il cazzo di uccellino anzi che lo metti dentro le gabbie, dentro una gabbia umana le più grosse che ce l'hai davanti alla mensola davanti all'uccellino noi lo rapiamo e poi dopo per riaverlo tu devi comprare un pulcino nuovo una gallina nuova ma sei zitta merda stiamo proprio con l'ansia di... da un momento all'altro si arriva qualche aquila nei 12 metri è una molla eh! è 12 metri! è 12 metri! è un baggio che parla! bella poi perchè all'incontrare... è che... ma perché vai hai tutto il fatto di questorito! e cosa vuoi vederlo? Luca? Luca?